come figlio della grande madre e quindi abbiamo visto la Torina esoterica, abbiamo visto Europa, il santuario della Madonna Nera, abbiamo visto Rosazza che è una piccola cittadina tra le montagne biellesi che è stata trasformata completamente in senso esoterico e abbiamo visto poi ovviamente la Sacra di San Michele. L'altra polarità, quando ci siamo spostati per scegliere un altro tour di questo tipo, abbiamo scelto appunto Napoli, che presenta un po' la polarità complementare ed opposta di Torino, dove a Torino troviamo questo impulso macrocosmico celtico, a Napoli troviamo l'impulso egizio microcosmico dell'iniziazione delle profondità dell'anima. E quindi oggi, diciamo, siamo al nostro secondo giorno della visita della Napoli svelata. Abbiamo visto il primo giorno appena siamo arrivati ovviamente la Cappella San Severo, ci hanno dato un appuntamento, diciamo, di fortuna e quindi siamo riusciti a vedere subito la Cappella San Severo, abbiamo visto il triangolo egizio, abbiamo parlato della comunità dei nilesi e della fondazione della nuova, e della reincarnazione della nuova Alessandria d'Egitto. Oggi siamo stati al Maschio Angioino, abbiamo parlato del Graal, di Alfonso V d'Aragona, abbiamo parlato della trasformazione delle forze della brama in quella che è la parola creatrice. Abbiamo poi visto il Castel del Lobo, e quindi abbiamo parlato della sirena partenope e di che cosa significa, da un punto di vista esoterico, il corpo della sirena partenope e poi della successiva fase di Virgilio Mago. Oggi pomeriggio siamo stati a Pompei e abbiamo visto, oltre al Tempio di Isi del Tempio di Esculapio, di Asclepio, abbiamo visto la Villa dei Misteri, che è l'unico esempio al mondo preservato di una camera di iniziazione ai misteri di Dioniso, che appunto hanno a che fare con i misteri microcosmici e della risorgenza delle forze, delle profondità dell'anima. Oggi concludiamo con questa conferenza sull'onirosofia, che è un po' una ricapitolazione in una nuova forma di quella che abbiamo fatto a dicembre, e avremo poi domani, come altre esperienze, andremo a vedere l'antro della Sibilla Cumana e il Parco Virgiliano, quindi introdurremo questo tema più approfonditamente di Virgilio Mago e del rapporto con la Sibilla di Cuma. L'ultimo giorno, torneremo su, quindi la lunedì mattina, torneremo sull'argomento della sirena partenope, vedremo la fontana della spina corona e quindi la porremo in una relazione rispetto alla sirena intesa come donna pesce e donna uccello, quindi che cosa significa questa trasformazione, e poi parleremo della reincarnazione del culto delle mummie egizie, trasformato nelle anime pezzentelle, nelle capuzzelle, in tutto il culto delle anime del purgatorio. Quindi questo sarà il nostro ultimo, diciamo, incontro nella Napoli svelata. Dal punto di vista del tour ci sono tanti, diciamo, fili conduttori che però poi trovano un loro punto di incontro. L'argomento che è stato proposto da Giulia è stato proposto, è stato richiesto come argomento il tema dell'onirosofia, è perfetto in realtà per questo periodo. Non so se è, posso continuare, ok. È perfetto per questo periodo perché? Perché noi ci troviamo a ridosso di un periodo dell'anno che è molto particolare. Noi ci troviamo a ridosso di quello che è un ciclo di tre giorni che inaugura un assottigliamento di quello che è la membrana tra il mondo fisico sensibile e i mondi sovrasensibili, e in particolare il mondo eterico e il mondo astrale. Questo particolare periodo dell'anno è chiamato Halloween, cioè la vigilia di ogni santi, i santi e i defunti. Questi tre giorni formano una sorta di nodo, un momento di, diciamo, di collo di bottiglia, in cui il mondo dei vivi e il mondo dei defunti si incontrano più profondamente. Questo periodo comincia già in realtà a un suo prodromo con la notte di San Lorenzo, quindi con l'impulso micheliano che comincia a discendere, ha una metamorfosi a settembre con quello che è l'equinozio d'autunno e quindi l'ingresso delle forze della bilancia nell'immaginazione di Michael, quindi Michael come portatore non solo della spada ma della bilancia, ha a che fare con l'ingresso dell'uomo nuovamente nei misteri microcosmici. Dall'estate dal quale noi proveniamo, come ciclo stagionale, l'anima e lo spirito dell'uomo sono in uno stato di estasi paradesiaca diffusi nella periferia cosmica, quindi l'uomo è meno cosciente nella sua presenza, diciamo, di veglia, quella che normalmente è la coscienza di veglia. Quando arriviamo alla notte di San Lorenzo avviene, comincia questo moto di inspirazione dell'anima e dello spirito dell'uomo e della terra nuovamente nel corpo dell'uomo e nel corpo della terra. L'anima dell'uomo e l'anima della terra e potremmo dire anche lo spirito dell'uomo e lo spirito della terra sono inscindibilmente uniti, come sapete Steiner ci racconta del divenire del Cristo come lo spirito da spirito del sole a spirito della terra e contemporaneamente a permettere l'incarnazione completa dell'io, dell'autocoscienza nell'essere umano, nella piena coscienza di veglia nel corpo fisico e di conseguenza le stagioni sono un riflesso esteriorizzato di quella che è la vita interiore dell'uomo e della terra, che sono inscindibili. Una vera e propria ecologia spirituale. Quello che avviene è che dal momento dell'autunno lo spirito e l'anima dell'uomo e della terra, dalle distanze cosmiche, da questa estasi paradisiaca in cui rimane durante tutta l'estate, tornano concentrandosi, rimpicciolendosi, costringendosi a entrare in una fisicità, in un corpo fisico, nel corpo della terra. Quindi è un momento di crisi, è un momento di un passaggio critico, è il momento in cui questa anima e spirito che hanno vissuto tutt'uno con l'estasi divina dell'estate ritrovano un ostacolatore lungo il cammino di discesa, ritrovano il drago del materialismo. Quell'essere, arimane, il materialismo, lo spirito appunto della materia, il signore di questo mondo, che aspetta l'anima dell'uomo e lo spirito dell'uomo nel momento in cui questi, come inspirazione, rientrano nel corpo e sulla terra. A quel punto quello che accade è che chi segue una via esoterica, ma anche chi ha un anelito anche più genericamente, diciamo così, spirituale, può intercettare delle forze che dal cosmo promanano, che discendono dall'alto e arrivano sulla terra, che sono le forze micheliane del coraggio. Quello che abbiamo detto, il ferro siderale delle notti di San Lorenzo, che poi diventerà prima la spada, che appunto pone il drago nella giusta sfera, il materialismo nella sua giusta dimensione, che poi diventerà la bilancia che soppesa ciò che è fisico sensibile, la fratellanza, diciamo, del sangue antica, con quello che è invece sovrasensibile, la fratellanza spirituale del futuro. Quando arriviamo a questo punto, a questo punto critico dell'anno, dobbiamo fare davvero i conti. Abbiamo raccolto le forze micheliane che ci permettono di passare attraverso l'esperienza di Halloween, i santi e i defunti, in una forma pienamente cosciente. Siamo in grado di rimanere in contatto con il sovrasensibile senza lasciarci trascinare da quelle che sono le antiche risorgenze di una chiaroveggenza atavica che l'uomo possedeva, che è legata al sangue, che è rappresentata dalle maschere terrifiche che si presentano nella vigilia di tutti i santi, cioè Halloween. È questo che significa questa festa, che noi festeggeremo, diciamo, spiritualmente domani. Il fatto che l'uomo, prima di poter vedere l'immagine futura di sé, i santi, e prima di vedere coloro che sono il suo futuro prossimo, i defunti, perché anche noi saremo non tra tanto dei defunti, quello che accade è che sostanzialmente si devono avere delle forze sovrasensibili, forze micheliane, per mantenere la coscienza desta nell'incontro, prima con, diciamo, dei guardiani della soglia, queste antiche risorgenze della chiaroveggenza atavica, i mostri non morti della notte di Halloween, e poi successivamente l'immagine dell'evoluzione futura, i santi, che sono iniziati della via cristiana. Sono i precursori che hanno incarnato profondamente quella che è la via iniziatica dell'imitatio Cristi, dell'imitazione del Cristo. E successivamente, chiaramente, è come se noi avessimo questo grande ideale dei santi e poi avessimo la forma precedente al divenire santi, i defunti, che sono ancora in un processo progressivo di purificazione. Devono ancora compiere tutto un ciclo di incarnazioni per potersi purificare. Se noi abbiamo coltivato forze sovrasensibili micheliane, noi possiamo affrontare i guardiani della soglia, questi non morti, con coraggio. Sono dentro di noi. Sono parti che nel nostro sangue vogliono trattenerci in una coscienza di gruppo. Vogliono trattenerci e illuderci che noi siamo solamente le forze che scorrono nell'ereditarietà, nel sangue, la famiglia, la nazione. Pensate, per esempio, alla risorgenza di tutti i nazionalismi che abbiamo in questo periodo. Ci troviamo anche a livello globale in questa forma, se volete, in questo processo. Successivamente, se invece, effettivamente abbiamo sviluppato abbastanza di queste qualità di coraggio per poter andare oltre la forma fisico-sensibile, oltre quello che ci perviene dall'ereditarietà, ricordatevi la bilancia di Michele, allora possiamo fare un passo oltre. Possiamo fare un passo oltre la soglia e avere un contatto col mondo sovrasensibile, il mondo dei santi, dei defunti. Cosa accadeva nell'antichità, soprattutto pre-cristiana, quando si voleva contattare i santi defunti? Si andava sulla tomba del caro estinto. Quindi, se era per esempio un santuario, questo succede ancora oggi, si va nel santuario appunto che rappresenta o addirittura ha delle reliquie di quel santo e ci si mette in comunicazione con quel santo. Ma questo veniva fatto per tutti i defunti. La visita ai cimiteri nel giorno dei morti è un'antica tradizione che deriva dal fatto che se anche nella veglia io posso collegarmi o ai santi o ai defunti, durante la notte, in sogno, avranno molta più possibilità di contattarci. addirittura nell'antichità questa pratica, siccome non era mediata dalle forze dell'io, quindi non c'era questa necessità di scegliere tra le forze della chiaroveggenza tavica che appunto ci trattengono e invece una libera scelta verso il sovrasensibile, le forze micheliane. Semplicemente si viveva in una forma di chiaroveggenza, che però era crepuscolare. Quello che avveniva nell'antichità era che i defunti addirittura ci si addormentava sulle tombe, si avevano proprio anche, questo ne parlavamo anche prima con alcuni del gruppo, per esempio in alcune tradizioni messicane si ha un pranzo con i defunti, si hanno delle conversazioni, si ha una sorta di, come dire, di riunione con i morti, vera e propria, dove si fanno delle attività che noi diremmo da vivi e sono effettivamente presenti. Nell'antichità, oltre ai defunti, siccome si aveva una capacità ancora maggiore di collegamento con i mondi sovrasensibili, che non richiedeva questo grande sforzo, i defunti mediavano anche per le gerarchie spirituali. Quindi non solo potevano comparire i defunti, ma potevano comparire anche degli esseri delle gerarchie. Quindi i sogni, rispetto ai sogni che abbiamo noi, che sono dei barlumi di immagini spesso, ci sono dei momenti nella nostra biografia in cui magari più densamente, più intensamente sogniamo, per esempio se cominciamo a lavorare sui sogni annotandoli, trascrivendoli, ci accorgiamo che noi ci attiviamo a questo e quindi diventa un circolo virtuoso in cui i sogni cominciano copiosi a comparire più coscienti, ma viceversa la nostra vita di sogno è veramente grama rispetto a quella del passato in cui si viveva nella chiaroveggenza tavica. Ma c'è una soluzione. Se noi riusciamo a compenetrare la nostra vita interiore con la luce dell'autocoscienza, con lo strumento dato dalla scienza dello spirito antroposofica, noi riusciamo a illuminare nuovamente questo mondo crepuscolare che nel ciclo delle stagioni compare come appunto Halloween, i Santi defunti, anche alla luce, pensate al crepuscolo, a come prevale questo finire della luce fisico sensibile dell'estate, e in un senso interiore nella capacità di sognare. Il sogno è qualche cosa, chiaramente, che Stein ci comunica nella scienza occulta principalmente, ma anche in altri testi, che proviene da una fase antica della nostra evoluzione. Queste fasi evolutive che nella scienza occulta sono descritte approfonditamente e che noi conosciamo anche da altri testi, ne avete sicuramente sentito parlare, sono la prima, quella dell'antico Saturno, la seconda metamorfosi, quella dell'antico Sole, la terza, quella dell'antica Luna e la quarta, quella della Terra attuale. Queste quattro metamorfosi formano come, immaginate, come delle divisioni negli stati di coscienza. Questo perché le metamorfosi sono un'espressione di un'elevatissima gerarchia spirituale. Quando Steiner parla di come il padre entra nell'evoluzione cosmica, dice, è la coscienza assoluta. Il padre, nell'antico Saturno, si esprime come la coscienza umana di quello che è la trans, cioè uno stato di coma, diciamo così, è uno stato tra la vita e la non vita, è lo stato che oggi hanno i minerali. Quando il padre riversa la sua coscienza nell'antico Sole diventa il sonno senza sogni dei vegetali. Quando il padre riversa la sua coscienza nell'antica Luna comincia il sogno. Quindi diciamo il coma o trans, il sonno senza sogni, il sogno e quando finalmente entriamo nella metamorfosi della Terra, quando il padre dona la sua coscienza alla metamorfosi della Terra diventa la veglia. Una veglia che inizialmente è crepuscolare, in quelle che sono le ricapitolazioni dell'antica metamorfosi, diventa qui in questa prima fase discendente ancora di gruppo, è quella chiaroveggenza tavica di cui abbiamo parlato prima, e poi successivamente all'acquisizione dell'Io, il mistero del Golgotha, diventa una veglia individuale che risale verso le future metamorfosi di cui ora accenniamo. Perché questo ci serve per creare, già che oggi siamo in tema di Graal, questo ci serve per creare un calice dove contenere quella che è la conoscenza iniziatica, da un punto di vista antroposofico, dei sogni. Quando il padre, appunto, che è la coscienza assoluta, guarda nei vari giorni della creazione, quindi il sabato cosmico, lunedì cosmico, scusate, il sabato cosmico, la domenica cosmica, la lunedì cosmico e poi ci sarà un martedì cosmico, un mercoledì cosmico, un giovedì cosmico, un venerdì cosmico e tutta la settimana insieme il futuro vulcano. Questi giorni della settimana cosmica sono in effetti continuamente presenti. Se noi guardiamo, diciamo, la nostra fase evolutiva, che noi ci troviamo in questa parte, quindi nella cosiddetta Terra-Mercurio, nella seconda parte, quello che è lo stato di sogno dell'antica luna, di sonno dell'antico sole e di coma o di trance dell'antico Saturno, sono comunque compresenti. È come se venissero intersecati dall'evoluzione terrestre attuale. Lo stesso vale per il ribaltamento di questi stati di coscienza. Siccome qui abbiamo il mistero del Golgotha, molti di voi, appunto, ne abbiamo già accennato prima, sanno che questo è il momento in cui il Cristo si incarna, compie il sacrificio della crocifissione in Gesù di Nazareth e l'uomo acquisisce un io individuale per la prima volta, completamente incarnato nel fisico. Da questo momento, tutto quello che era prima, viene metamorfosato. Quando il Cristo dice, io faccio tutte le cose nuove. Io faccio nuova la metamorfosi della prima metà, la Terra-Marte, e la trasformo in Terra-Mercurio. Questo, per esempio, è molto bello vederlo nei Santi, con l'11 novembre con San Martino. Il sogno diventerà un sogno pienamente cosciente, la cosiddetta immaginazione. Il sonno diventerà completamente cosciente, la cosiddetta ispirazione. Il coma, o trance, diventerà completamente cosciente nella cosiddetta intuizione. Di conseguenza, questi due stati di coscienza che il padre ha riversato, tenete presente che il padre è talmente elevato che non l'ha riversato nel passato, l'ha riversato contemporaneamente in quello che noi percepiamo come passato e futuro. Quindi, quando il padre ha guardato, diciamo, in questa parte che noi consideriamo del calice, ha riversato contemporaneamente la possibilità inconscia del coma e conscia, pienamente conscia, dell'intuizione. Lo stesso avviene con il sonno e l'ispirazione, lo stesso avviene col sogno, l'immaginazione, con quella che è l'anima di gruppo, la chiaroveggenza atavica, e l'io individuale, quella chiaroveggenza di cui parla Steiner, la via del pensiero vivente. Quindi, quando noi sogniamo, stiamo ricapitolando una fase evolutiva. Noi, normalmente, nella coscienza di veglia, e non a caso abbiamo fatto una linea verticale, noi abbiamo una posizione verticale. Siamo nella verticalità dell'io, che va dalle altezze alla profondità. La croce sul Golgotha. L'io vive nelle forze solari. Le forze solari intessono in maniera verticale. Quando, invece, noi ci addormentiamo, ci sdraiamo, a meno che non siamo obbligati a dormire come i cavalli, ci, diciamo, ci corichiamo, diciamo così. Coricandoci, noi ci esponiamo a forze di tutt'altra natura. Queste forze sono quelle portate dalla luce lunare. Quando noi osserviamo la luna, soprattutto quando è piena, quindi quando è più fisica, quando appare nella sua fisicità, che diventa uno specchio, che riflette tutti gli impulsi cosmici sulla Terra, quello che voi vedete è una sorta di alone circolare, che è molto diverso da quello che, per esempio, se voi non guardate il sole direttamente, che vi accecate, ma fate una fotografia del sole, vedete come i raggi si dipartono da un punto. Con la luna è tutto diverso. I raggi è come se fossero una sorta di continuo intersecarsi di mezzelune. È come se fossero una sorta di raggera, però sempre semicircolare. È come se si spandesse e si diffondesse piano piano, da più densa a meno densa. Quelle forze arrivano sulla Terra in forma orizzontale. Queste forze orizzontali sono le forze che vivono nell'uomo quando, che sono forze lunari, quando si addormenta. Quando l'uomo si addormenta e sogna, è nello stesso stato di coscienza degli animali. Quando sono desti, ma in realtà sognano. Quando l'uomo invece va nella fase, diciamo, di sonno senza sogni, è nello stato di coscienza equivalente dei vegetali. Quando, e questo in realtà non avviene nel ciclo della notte, ma avviene in particolari condizioni in cui si viene portati, per esempio, da un incidente molto traumatico che traumatizza profondamente il legame tra il corpo fisico e il corpo eterico, il corpo eterico, che ha a che fare con l'evoluzione del Sole e di Venere, della futura Venere, quando il corpo eterico si discosta leggermente dal corpo fisico, induce lo stato di coma, che è lo stesso che hanno i minerali. Quindi il corpo fisico giace in una sorta di sospensione vitale. di conseguenza, quella che noi chiamiamo onirosofia, la conoscenza iniziatica dei sogni, vive esclusivamente in questa dimensione. ovvero nella dimensione che per noi sono immagini crepuscolari nel quale vive anche l'animale. L'animale quando vi guarda, e poi ci sono chiaramente tutte le distinzioni da fare, ma parliamo in generale del mondo animale, quando un animale guarda al mondo, guarda all'uomo, vede quello che sono i moti interiori di quella persona, di quell'ambiente. Per questo motivo, per esempio, un animale ha una percezione raffinatissima della vera natura di un essere umano. Quindi, per esempio, è difficile, a meno che non sia un animale domestico, e quindi molto, come dire, la cui natura, giustamente, e a volte anche invece malamente, dipende un po', viene molto umanizzata, gli animali diventeranno umani, quindi questo è quello che devono fare, devono imparare a diventare umani, e l'uomo glielo deve far vedere in un modo che sia per loro adatto. Un animale domestico acquisisce meno, cioè perde questa acuità della capacità di penetrare nell'animo umano, ma un animale selvatico lo fa normalmente, e lo fa anche nell'ambiente. Quindi, quando si aggira nell'ambiente, e vede un essere umano, vede altri animali, vede quello che vive nell'anima, nell'interiorità di questi esseri. Quando noi ci addormentiamo, e cominciamo alla nostra fase di sogno, quindi diciamo che qua è come se avessimo la veglia nelle sue sfumature, fino a raggiungere il momento in cui ci addormentiamo, e poi arriviamo a questo limite in cui i sogni scompaiono, quindi questa è la parte, diciamo, più vegetale in cui i sogni completamente scompaiono, noi viviamo una vita di immagini, di immagini totalmente interiori. Allora, questo è un momento che è la dimostrazione palese, che esiste uno stato di coscienza che non è indotto dall'esterno, che ha pure una varia gradualità di presentazione delle immagini, che non è indotto dall'esterno, ma che dimostra che l'uomo vive in una dimensione sconnessa dal corpo fisico, e dal corpo eterico anche. Quindi vive sconnesso fino a una certa misura, perché poi c'è un legame, chiaramente, altrimenti si andrebbe verso il coma o la morte, in cui l'uomo vive uno stato che può essere addirittura totalmente realistico. Nel sogno lucido, per esempio, c'è una ricreazione di un ambiente che magari fisicamente non esiste, ma che viene vissuto in tutto e per tutto come una realtà fisico-sensibile. L'altro grande mistero che ci viene comunicato nella vita di sogno è che quando noi non ci ricordiamo il sogno, è l'equivalente di come se fossimo morti senza avere nessuna percezione del sovrasensibile. Ed è un mistero, perché noi ci addormentiamo, non abbiamo nessuna memoria di quello che avviene durante la notte e miracolosamente ci risvegliamo. Per questo gli antichi greci, giustamente, affratellavano la morte e il sonno in dei gemelli, che erano dei che risiedevano nell'Ade, negli inferi, cioè nell'inconscio dell'essere umano. Erano Hypnos e Zanatos. Hypnos e Zanatos che erano due angeli di cui, diciamo, venivano rappresentati uno d'oro e uno d'argento, quindi uno che aveva una natura più solare e uno che aveva una natura più lunare. quindi Hypnos, il dio della luna, era più, era argente, era più lunare, e Zanatos, il dio della, quindi morte, legato anche alla controparte vita, sovrasensibile, era questo angelo dorato, completamente dorato, che, appunto, aveva questo rapporto con le forze solari. Hypnos e Zanatos, per l'antico greco, erano i due possibili stati che si sperimentavano durante il sonno. Qui, che siamo, appunto, in una casa delle arti antroposofiche che hanno anche una funzione terapeutica, oggi siamo stati a Pompei. A Pompei, in una delle vie principali, da un lato c'era il tempio di Iside, dall'altro c'era il tempio di Asclepio. Cosa accadeva nel tempio di Asclepio? Si andava a dormire. Nel tempio di Asclepio, quello che era il processo di guarigione era strettamente legato al processo di interpretazione dei sogni. Diciamo, l'afflitto, il malato, andava nel tempio di Asclepio e lì dormiva per tre notti, presieduto dal sacerdote di Asclepio che poneva sul suo corpo dei serpenti. Questi serpenti, che sono il colubro di Esculapio, che appunto prende il nome dal dio, erano fondamentalmente agenti sulla natura eterica dell'afflitto, del malato. Se vi erano delle ferite fisiche, invece, c'era un altro animale che veniva utilizzato che era ugualmente sacro da Asclepio, che era il cane. Il cane lecava le ferite e con la sua saliva induceva la guarigione delle ferite fisiche. Questi due, quindi, uno che aveva più il fisico e uno che aveva più un rapporto con l'eterico. Il fisico, il cane l'eterico il serpente. Ma la cosa, diciamo, il momento terapeutico non era tanto neanche l'utilizzo del serpente o del cane, che pure erano sacri, era il fatto che durante quelle tre notti si sognasse intensamente. Durante questo sogno, durante questo incontro con il dio Hypnos ed eventualmente quando la cura non aveva effetto anche l'incontro con Sanatos, inducevano la possibilità al sacerdote di Asclepio di consigliare una cura. Il sacerdote di Asclepio aveva come principale compito quello dell'interpretazione dei sogni. L'afflitto parlava con la mattina al risveglio o nel momento in cui si risvegliava anche durante la notte, quindi era qualcosa a cui il sacerdote doveva essere ben desto, gli veniva raccontato quello che era stato il sogno che era stato vissuto durante l'esperienza di sogno e il sacerdote di Asclepio dava un'interpretazione. Questi, diciamo, sogni, appunto, e quindi qui si rende necessaria anche una certa interpretazione dei sogni, possono avere una varia natura. Questa divisione, in questo calice che è diviso in quattro stati che sono stati di incarnazioni della Terra, Saturno, Sole, Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere e Vulcano, sono anche dei mondi. Il mondo in cui intesse, appunto, questa relazione tra il coma e l'intuizione è chiamato il Devakan superiore. è chiamato anche mondo della ragione. In questo mondo risiedono gli archetipi in forma di numeri. Quindi, questo è, per esempio, quando Pitagora esprime la Tetractis, la coglie e la rende poi in una forma simbolica da questo stato. al di sotto abbiamo il Devakan inferiore. Devakan vuol dire l'anda degli spiriti. Il mondo del pensiero. In altre nomenclature vengono chiamate anche mondo mentale inferiore mondo mentale superiore o mondo del pensiero concreto e mondo del pensiero astratto. Ma sono esattamente modi diversi per rendere la stessa. Il mondo dei sogni è il mondo astrale, chiamato anche mondo animico. fisico-eterico. Il quarto mondo è il mondo fisico-eterico che ha due regioni, quindi mondo regione eterica e regione fisica. E uno in due come sono il corpo eterico e il corpo fisico. quindi a volte si chiama mondo eterico ma in realtà non è proprio corretto. Sarebbe regione eterica del mondo fisico oppure regione chimica del mondo fisico. Questo è il mondo dove noi viviamo nella veglia e quando noi viviamo nel pensiero morto viviamo solo nel fisico. Pensare morto. Il rimasuglio dell'antica chiaroveggenza tavica questi sono i pensieri replicantisi quindi per esempio io prendo un pensiero così com'è e dico sì è così lo replico e lo porto nuovamente. Tutto quello che è per esempio il continuare a ripetere per esempio le stesse news è in realtà tutto un processo che sta nel pensare morto perché non arriva mai all'assorgente di quello che è effettivamente la causa di quello che viene riportato. nella regione eterica noi abbiamo il pensare vivente al quale accediamo con quelle forze di cui abbiamo detto prima micheliane questo è il nostro compito attualmente è morire completamente nel pensiero per poter risorgere nel pensiero vivente moriamo detto in un altro modo moriamo nell'oggetto per risorgere nel processo al posto che rimanere conchiusi in una forma che ci opprime noi rinasciamo moriamo lì dentro e rinasciamo nel processo di metamorfosi delle forme sono modi diversi per raccontare lo stesso processo di conseguenza questa nel suo complesso è la sfera della terra quando noi entriamo al passaggio tra la sfera della terra e la successiva sfera celeste noi entriamo nella sfera della luna la luna è intesa in senso quindi non tanto della metamorfosi dell'antica luna ma come sfera celeste quando noi ascendiamo ulteriormente noi siamo nella sfera di mercurio quando noi ascendiamo ulteriormente qui ve la faccio tutta perché in realtà sono solo tre abbiamo venere il mondo astrale ha tre sfere celesti è costituito da tre sfere celesti a sua volta queste tre sfere celesti possono essere divise nelle cosiddette sette regioni del mondo astrale però non entriamo in questo ma il fatto che le sfere celesti sono tre e sono tutte astralità quindi quando l'uomo si addormenta e intercetta queste forze lunari della sfera della luna questi raggi orizzontali animali potremmo dire che inducono lo stato di sogno la ricapitolazione dello stato animale dell'uomo quello che avviene è che nel nostro letto nel nostro giaciglio dove dormiamo il corpo fisico ed eterico rimangono in loco il corpo astrale e l'io cominciano ad espandersi da quello che è diciamo il nostro sonno quello che è il nostro sonno l'eterico e il fisico rimangono nel letto l'io e l'astrale è come se fossero un palloncino che si espande nelle sfere celesti si espande nelle sfere celesti e può intercettare il sogno fin tanto che si espande nelle tre sfere della luna di mercurio e di venere quando poi entra nella sfera successiva che è la sfera del sole che ha tre nature che possiamo chiamare come eterica animica e spirituale non c'è più l'immagine questo è il limite dell'immagine tutto quello che è onirofofia tutto quello che è sogno interpretazione dei sogni sta esclusivamente nel mondo astrale nelle forme del primo Goetheanum voi avete per chi è stato ad Ornak ci siamo stati anche recentemente abbiamo fatto appunto uno dei nostri tour abbiamo visto guidate abbiamo visto Arlesheim Dornach insomma abbiamo visto tante dimensioni di quei luoghi quando abbiamo abbiamo visto il modello del primo Goetheanum che è stato diciamo ricostruito veramente molti di voi l'avranno visto e si può anche entrare dentro diciamo con la testa per vederlo dall'interno ora gli hanno dedicato una sala apposta prima era vicino al rappresentante dell'umanità l'abbiamo già trovata appunto in questa nuova sala quello che si comprende molto bene quando Steiner descrive il tempio rosicruciano emerso dalle profondità della terra è che ci sono due dimensioni principali la dimensione dell'immagine il dipinto e qui mi riferisco anche alla pratica appunto del dipingere essendo appunto la casa delle arti antroposofiche che rappresenta tutta l'astralità il mondo astrale ovunque nel Goetheanum e quindi sto parlando soprattutto del primo si vedevano i motivi pittorici della grande e della piccola cupola è il mondo astrale che si palesa all'essere umano quando noi passiamo dal mondo astrale al devacan inferiore quindi in questa sfera che è del tutto solare seppure in tre in tre aspetti a noi ci si presenta qualcosa di completamente diverso ci si presentano le forme plastiche architettoniche ovvero un suono abbiamo detto che qui non c'è più l'immagine ma c'è una sorta di udito di suono che diventa forma cristallizzata forma sensibile l'eterico l'animico lo spirituale dove li trovavamo nel primo Goetheanum nella divisione tra basamento pilastro e capitello della colonne del Goetheanum regione eterica aspetto eterico del sole si può chiamare anche sole eterico sole animico e sole spirituale basamento colonna e capitello mentre qui abbiamo appunto i motivi della grande e della piccola cupola così come negli altri templi che Steiner aveva inaugurato abbiamo visto il tempietto di Malsh vi erano i sigilli apocalittici che conoscerete anche come motivo pittorico i sette sigilli apocalittici che poi vengono metamorfosati nelle immagini della grande e della piccola cupola ma il concetto è lo stesso cioè il fatto che l'immagine dipinta è il mondo astrale tutto quello che è plastico architettonico scultoreo è il devacano inferiore quindi quando si osserva l'immagine che rappresenta un'immaginazione i sigilli la colonne diciamo i motivi della piccola e della grande cupola siamo contemplando l'immaginazione quando contempliamo le forme delle colonne del Goetheanum stesso tutto quello che è architettonico plastico siamo nell'ispirazione manca ancora un passaggio questo passaggio sono le tre sfere superiori i cosiddetti pianeti sopra solari la sfera di Marte la sfera di Giove la sfera di Saturno così come appunto abbiamo nel mondo astrale Luna Mercurio Venere nel devacano inferiore sole eterico sole animico sole spirituale in quello che è il devacano superiore noi abbiamo la sfera di Marte di Giove di Saturno questi sono degli stati in cui non esiste neanche più questo suono sovrasensibile questo udito cosmico l'armonia delle sfere è qua i sette le sette colonne sono l'espressione del Goetheanum sono l'espressione dell'armonia delle sfere non c'è più non c'è più nulla rimane solo un certo senso che noi possiamo paragonare a quello che si sperimenta nell'intuizione che è il tatto il senso della percezione del toccare del toccarsi e della presenza dell'altro questo è legato chiaramente all'evoluzione dell'antico Saturno che nell'essere umano si viene ricapitolata quando la madre partorisce il figlio e lo abbraccia per la prima volta si sente l'incontro del tattile tra il bambino tra il neonato e la quindi la pelle del neonato che è un organo di senso e la pelle della madre che è datrice del manto di calore questi stati non li andremo a vedere ma per farvi capire che l'ultimo stato l'ultima sfera è quella dello zodiaco chiamata anche mezzanotte cosmica quindi tutte le notti noi che ci ricordiamo i sogni o non ce li ricordiamo affatto e quindi siamo più in questa dimensione e quindi l'addormentarsi e il destarsi è come morire e risorgere non c'è tanta differenza pensateci a questo quando ci addormenteremo e non ci ricorderemo i sogni noi ci addormentiamo e poi a un certo punto ci risvegliamo è qualche cosa che noi prendiamo per scontato ma è qualcosa che è un gracolo perché non è scontato affatto quando noi sogniamo abbiamo almeno come dire un filo conduttore sul quale ancora ci aggrappiamo tutto sommato noi siamo esseri che ci basiamo molto sulla visione quindi ci fidiamo di più quasi dell'immagine che non di quello che sta sopra ma l'immagine in realtà è l'espressione più diciamo in un certo senso più vicina al fisico sensibile gli stati spirituali superiori sono udito e tatto quindi i grandi misteri stanno dove non c'è più questo senso di una vista seppur chiaroveggente anche se crepuscolare come quella dell'animale l'astrale si spande arriva fino alla sfera di Venere intercetta le altre sfere planetarie perché comunque hanno anch'esse una natura astrale quindi noi stiamo considerando nella loro natura differenziale ma in realtà esiste anche un sole astrale che è quello animico esiste una natura astrale di Marte una natura astrale di Giove una natura astrale di Saturno quindi per comprendere noi stiamo cercando anche un po' di semplificare quindi il corpo astrale si espande alla sua massima diciamo percezione autopercezione entro il mondo astrale ma intercetta anche la natura astrale delle sfere celesti superiori quando l'io arriva insieme al corpo astrale fino al limite di Saturno oltre al quale non possono andare qua se vogliamo possiamo mettere immagine udito armonia delle sfere tatto calore per esempio quando durante la notte noi passiamo anche questo stato e arriviamo sostanzialmente a sfumare completamente addirittura qui in questa fase del sonno ovviamente non entriamo in coma ma si attiva al massimo il sistema parasimpatico questa è la fase in cui effettivamente il corpo fisico che è come se fosse una sua uno suo specchiarsi lo vedete da questo è il punto di riflessione ha la massima guarigione quindi non è quando c'è tanto un'immagine che ha a che fare soprattutto con l'anima non è neanche quando c'è questo senso dell'udito sovrasensibile ma è quando c'è il manto di calore che si presenta il sistema parasimpatico regola la temperatura corporea quindi dà la possibilità all'essere umano con tutta una serie di processi che noi possiamo osservare anche da un punto di vista fisico sensibile quindi nervoso fisiologico è nelle braccia delle gerarchie più elevate è qualcosa che loro custodiscono per l'uomo perché non è in grado di regolarsi da sé quando l'io arriva alla sfera di saturno qui non può andare oltre perché perché tutto il cosmo comincia con l'antico saturno quindi quando noi arriviamo alla sfera di saturno abbiamo la coincidenza con l'originaria sfera dove i serafini cherubini e troni hanno fatto cominciare l'evoluzione di tutte le metamorfosi terrestri quindi oltre questo limite comunque noi non possiamo andare anche se fossimo degli iniziati che quindi percepiscono il sogno in forma cosciente immaginazione il sonno in forma cosciente ispirazione e il coma in forma cosciente intuizione oltre la mezzanotte cosmica non è possibile procedere è possibile arrivare al limite e qui si osserva quella che viene chiamata la grande notte cosmica in altri termini questi sono i giorni cosmici abbiamo detto della settimana cosmica chiamati anche manvatara una termine della terminologia teosofica quindi indiana e questa è la grande notte cosmica chiamato ma pralaia i pralaia sono le notti cosmiche quando l'io e l'astrale arrivano a sfiorare lo zodiaco è come se questo questi due palloncini che si sono gonfiati hanno coperto tutte le sfere cosmiche intercettandone nella loro natura ovviamente l'astrale intercetta l'astrale dei pianeti l'io intercetta la natura spirituale dei pianeti si contrae è come l'uomo quando dall'estate che è espanso con anima e spirito nel cosmo torna nell'incarnazione terrestre deve ritornare ad affrontare quello che è il mondo fisico sensibile nella stagione o in una notte l'io e l'astrale questi palloncini si sgonfiano rientrano e sono rimasti sempre collegati all'eterico fisico attraverso quello che viene descritto dai chiaroveggenti ne parla anche Steiner viene chiamato cordone argenteo questo è solamente per è una sorta di condore umbilicale che lega il fisico eterico all'astrale e l'io i sogni che noi abbiamo intercettando nella natura dei vari pianeti hanno qualità diverse quando noi sogniamo un animale noi lo sogniamo nella natura astrale dei pianeti venere mercurio e luna quando noi sogniamo un vegetale noi lo sogniamo nella natura del triplice sole quando noi sogniamo un minerale o un paesaggio noi siamo nella natura dei pianeti sempre la natura astrale quindi perché è sempre un'immagine dei pianeti sopra il sole abbiamo detto che questo è minerale vegetale animale uomo di conseguenza le gerarchie che sottendono a queste sfere planetarie intessono per l'uomo nel suo corpo astrale e nell'io le immagini di sogno corrispondenti in particolare sono più intense quando attraversiamo il mondo astrale perché chiaramente è tutto della stessa natura del corpo astrale e dopo sarà localizzato al singolo pianeta alla singola sfera planetaria non a tutto il mondo che viene attraversato quando noi abbiamo una percezione quindi di un minerale di un vegetale o di un animale noi possiamo dire da un punto di vista dell'onirosofia esattamente a quale stato di coscienza a quale eventualmente anche sfera planetaria si sta riferendo quindi quando noi portiamo un sogno e lo analizziamo da un punto di vista e potremmo dire anche lo analizziamo da un lato e lo sintetizziamo dall'altro sintetizziamo il significato lo possiamo fare perché noi grazie a quello che ha portato Steiner abbiamo una anatomia potremmo dire una un'anatomia organica quindi effettivamente gli organi dei mondi e delle sfere planetarie che noi attraversiamo durante il sonno noi tutte le notti siamo degli astronauti anche l'astronauta nella sua immagine che è un simbolo in realtà di quello che avviene a livello sovrasensibile l'immagine è quella di una sorta di bebè fluttuante con un cordone ombelicale che lo lega all'astronave non è diverso dall'immagine che descrivono gli iniziati di tutti i tempi del corpo astrale dell'io che legati dal cordone argentio viaggiano si staccano dall'eterico fisico ovviamente poi si può entrare più specificatamente in quello che è la natura del sogno per esempio quando noi sogniamo determinate figure quindi per esempio delle figure umane è perché queste hanno una certa relazione con una nostra anatomia interna una nostra astralità interna queste stesse sfere che sono dentro di noi quindi per esempio se sogniamo nell'ambito del femminile probabilmente stiamo intercettando qualche cosa poi bisogna andare a vedere più approfonditamente la sfera della luna o la sfera di venere se noi stiamo sognando invece qualche cosa che ha a che fare col maschile siamo Marte Giove probabilmente Saturno se invece noi sogniamo qualche cosa che ha a che fare con un evento principalmente della nostra individualità e questi sono sogni che hanno una qualità assolutamente oggettiva siamo nella natura del sole i sogni astrali sono più simbolici i sogni che hanno una natura dei pianeti superiori a quella di venere la sfera di venere hanno una natura che è progressivamente sempre più oggettiva addirittura quando sogniamo nella sfera di Saturno noi possiamo sognare degli episodi di vite precedenti perché qui siamo dove noi torniamo tutte le volte nella mezzanotte cosmica che ritorniamo in incarnazione sulla Terra quindi così come vi dicevo Hypnos e Sanatos sono dei gemelli lo stesso processo che noi facciamo tutte le notti di ascesa delle sfere planetarie e ritorno sia che ce lo ricordiamo che no è come morire sulla Terra passare nella decomposizione del corpo fisico del corpo eterico del corpo astrale e poi l'io che vive lo stato paradisiaco fino ad arrivare alla mezzanotte cosmica dove decide insieme alle gerarchie che è il caso di ritornare in una nuova incarnazione è esattamente lo stesso processo descritto ovviamente secondo due prospettive due dimensioni adatte a descrivere quel processo ma il viaggio è lo stesso quando noi in questo periodo dell'anno 31 1 e 2 quindi Halloween santi e defunti sogniamo nella nostra espansione dell'astrale dell'io sono intessuti in modo preponderante in modo più evidente rispetto ad altre notti i defunti quindi l'antico per incontrare i defunti andava andava a visitare le tombe dei cari estinti e si rivolgeva al mondo di sogno che avrebbe incontrato durante la notte questo è per dire che appunto in un certo senso quando noi ci addormentiamo noi viviamo in uno stato che è molto simile a quello del defunto alcuni sogni hanno per esempio una natura compensatoria quindi sono una forma di contrappasso come del purgatorio lo stesso che vivono i defunti nella sfera della luna altri sognano una natura più invece chiaramente simbolica ci sono delle immagini che magari non sono reali in senso fisico sensibile ma si manifestano per darci un significato questi sono tutti i modi che le gerarchie hanno per comunicare con noi le gerarchie a partire dalla terza gerarchia seconda gerarchia e prima gerarchia quindi andando dai più vicini all'uomo gli angeli custodi fino ai serafini che li troviamo sostanzialmente oltre lo zodiaco quindi qui arriviamo nella sfera di saturno arriviamo ai troni non comunicano come noi non comunicano con le parole comunicano in particolare la terza gerarchia per immagini la seconda gerarchia per i suoni le parole le parole ma in un senso di una suggestione un senso di un'armonia un ritmo non è qualche cosa che noi possiamo articolare davvero con una parola e infine quelle che sono gli esseri delle gerarchie più elevate in particolare i troni si presentano a noi sotto forma di percezioni sensore pure questi i sogni lucidi sono sogni che sono sempre nelle ultime sfere nelle sfere di marte giove e saturno i sogni di ricapitolazione di incarnazioni precedenti sono sogni che raggiungono la mezzanotte cosmica peraltro questo chiaramente ha un effetto sulla biografia tutto quello che è i sogni sono importantissimi per cercare di comprendere quali sono i messaggi del mondo spirituale da poter realizzare nella biografia quando noi nella scienza dello spirito ci poniamo in questa via dell'autocoscienza dobbiamo anelare progressivamente a compenetrare di autocoscienza tutti questi stati l'immagine l'udito e il tatto e quindi ci sentiamo più vicini a quegli esseri che sono in realtà meno confinati di noi uno dei grandi effetti che ha l'interiorizzazione della scienza dello spirito antroposofica è che dissolve progressivamente quelli che sembrano dei limiti invalicabili delle sfere che corrispondono a gradazioni degli stati di coscienza riusciremo a riconoscerli ugualmente quindi sapremo riconoscere a che cosa appartiene cosa a quale esperienza a quale sfera corrisponde la determinata esperienza ma allo stesso tempo saremo in grado di muoverci più fluidamente in questa dimensione in questo calice che abbiamo disegnato delle sfere celesti il sogno quindi e questo non a caso è diciamo è stato oggetto di tanta attenzione da parte per esempio della della psicoterapia il sogno ha in sé sempre una forza che porta ulteriore coscienza nella vita di veglia l'unica distinzione che possiamo fare è se per esempio e quindi che sono sogni che non hanno necessariamente un significato compensatorio un significato terapeutico per la biografia sono i sogni che noi facciamo quando e non sto scherzando abbiamo mangiato tanto quando abbiamo un processo di malattie in atto quindi che c'è malattia barra guarigione quindi ci sono per esempio lo stato febbricitante quando abbiamo assunto delle sostanze che alterano lo stato interiore in questi tre casi sono sogni che comprimono diciamo l'astrale e l'io e lo costringono a rimanere nelle sfere più basse addirittura quando veramente siamo belli pieni magari abbiamo mangiato una bella quantità di pizza fritta quello che accade è che noi rimaniamo legati alla sfera terrestre è l'equivalente di quello che accade ai defunti quando non hanno sviluppato un interesse per la vita sovrasensibile quando noi mangiamo troppo e ci riempiamo di sostanze materiali fisico sensibili noi non abbiamo un vuoto necessario nel nostro corpo per permettere all'astrale e all'io di lasciare i corpi sono trattenuti dalla necessità del fatto che siamo pieni di sostanza materiale la zavorra è una vera e propria zavorra e lo sentiamo e sono sogni che è vero non hanno significato ma noi sogniamo qualcosa noi sogniamo i processi metabolici che sono per noi sono kaleidoscopici quando per esempio avete la febbre la febbre magari aumenta sognate veramente dei kaleidoscopi è come se viveste magari in un mondo che è fatto di cristallo oppure a volte ci sono diciamo dei colori che sono metallici ci sono delle figure che si disfano e si rifanno costantemente questi sono gli esseri elementari che intessano nei nostri corpi fisico-eterico ed eventualmente anche in parte l'astrale se abbiamo assunto sostanze diciamo che altrano lo stato animico questi sogni quindi non possono essere interpretati direttamente cioè non hanno una ragione simbolica del loro essere ma hanno una ragione intrinseca nel fatto che noi entriamo in uno stato di coscienza in grado di percepire l'agire degli esseri elementari quindi per esempio se noi assumiamo una medicina se lo facciamo inconsciamente noi magari abbiamo dei sogni agitati dei sogni caotici e noi stiamo sognando il processo del principio attivo l'essere del principio attivo se noi invece lo assumiamo per esempio come facciamo con la naturopatia con la medicina antroposofica con altre vie di cure naturali anche nello sciamanesimo è così per esempio quando noi decidiamo di assumere un rimedio perché sappiamo che ha una corrispondenza con la nostra interiorità allora addirittura possiamo utilizzare quel momento di percezione un po' come la nostra soglia il nostro Halloween che ci avvicina ai defunti ad i santi oltre che ai non morti ci avvicina al mondo degli esseri elementari e quindi quando lo facciamo coscientemente è possibile avere dell'esperienza con gli esseri elementari magari sono limitate però è possibile e questo avviene per esempio se noi magari non ci addormentiamo completamente ma ci acquietiamo magari siamo su una sedia e ascoltiamo il nostro corpo andare assumendo andare assimilando il rimedio che abbiamo preso quindi queste da un punto di vista scientifico spirituale sono tutte esperienze che noi normalmente facciamo diciamo ma sì per esempio io oggi ho dovuto assumere una quantità di propoli che in vitamina cioè raramente mi ricordo io ho mangiato più propoli oggi che cibo diciamo così quindi effettivamente io a un certo punto sentivo che l'assimilazione della propoli nella gola cambia lo stato della gola ha una qualità diversa che non ha né nello stato di infiammazione che avevo per esempio magari stamattina ma neanche nello stato di equilibrio che io avevo magari due giorni fa è uno stato che è indotto dall'essere della propoli nella sua assimilazione dei tessuti della gola quindi l'essere della propoli si offre e induce una sua certa forma nei tessuti questa sua indurre uno stato una forma precisa è la sua vita di sogno quando un essere elementare sogna una forma si incatena in quella forma quando Steiner dice andate nella natura e osservate le pietre e guardatele cercando di compenetrarle col fatto che provengono da un passato lontano e sono degli stessi minerali che sono dentro il nostro corpo dice voi a un certo punto quando le osservate poi goetianamente c'è un metodo per osservarle chiaramente quello che abbiamo anche visto a Cervini hanno la nostra esperienza alcuni di voi c'erano quando noi osserviamo goetianamente il fenomeno in sé quello che accade è che noi stiamo osservando l'intestra degli esseri elementari che hanno generato quella forma nel momento in cui hanno cominciato a sognare quindi sono rimasti incatenati in una forma precisa quando l'uomo li osserva e infonde è come se immaginate come se dal punto tra le sopracciglia dell'uomo irraggiasse un sole quando questi raggi di sole colpiscono la pietra e dicono io gnomo ti riconosco nel tuo essere incatenato in una forma l'essere elementare guarda a questa luce che proviene dall'io dell'uomo e dice io ti aiuterò io sarò con te e donerò questa mia forma a te io l'ho liberato osservandolo in quel modo dal suo incatenamento e se addirittura poi lo lavoro la sua liberazione sarà ancora maggiore perché sperimenterà delle forme che nella natura non potrà mai sperimentare lo scolpire visto che parliamo di scolpire è prima di tutto un ascolto degli esseri elementari presenti nella roccia grezza nella pietra grezza poi scolpita il gesto che incontra la resistenza dell'essere che sognando è intrappolato nella forma e poi finalmente la sua liberazione quella forma che gli è stata data con lo scolpire lo fa stare in una coscienza in uno stato di coscienza che pur non essendo chiaramente quello umano assume delle qualità umane quindi questo sognare intesse tutta la nostra esistenza tutto quello che è nel mondo fisico nella regione eterica e in tutto il mondo astrale quando noi osserviamo anche l'ambiente che ci circonda noi dobbiamo tenere presente che ci sono esseri elementari che si sono sacrificati incatenandosi in un sogno per divenire quello che noi osserviamo questa stanza con questo edificio che ci contiene e ci permette di tenere una conferenza sui sogni e quindi quando noi entriamo in un rapporto invece di coscienza di veglia noi possiamo risvegliarli da questo sogno in cui non possono far altro che rimanere in quella forma gli aspetti dunque sono veramente tanti quindi io ho cercato di darvi una serie di immagini e una serie di connessioni per poter indagare voi stessi secondo la scienza dello spirito antroposofica quello che è per esempio se annotate i vostri sogni potreste cominciare già a vedere quando compaiono gli animali che qualità hanno quando compaiono i vegetali che qualità hanno e i minerali lo stesso quando compaiono i volti umani che quindi in qualche modo hanno a che fare con quella che è la sfera paradisiaca dove gli esseri umani risiedono nei mondi sovrasensibili per la maggioranza del tempo tra un'incarnazione e l'altra quello che viene chiamato la sfera del paradiso è la sfera del triplice sole che cosa ci vogliono comunicare addirittura in questo periodo è possibile sognare più profondamente i defunti se noi rivolgiamo una domanda ai defunti se rivolgiamo una domanda a un essere elementare lo liberiamo con la nostra coscienza dalla sua condizione di sogno se noi addormentandoci poniamo per tre notti di fila una domanda ad un caro estinto però attenzione deve essere passato almeno un terzo di quella che era la vita passata durante l'incarnazione perché in quel terzo sta facendo un lavoro di purificazione per ascendere alla sfera solare quando si ritroverà effettivamente nella sfera solare e lì rimarrà centinaia se non migliaia di anni come ci siamo rimasti noi e ci rimarremo nuovamente allora lì quando ci risvegliamo per tre notti quindi per tre notti e tra risvegli di fila abbiamo un collegamento con quell'essere che vive nella sfera solare il consiglio è farlo dopo un terzo della vita perché la purificazione è completa quindi significa che quella quell'anima ha purificato tutta la zavorra del mondo fisico sensibile dei sensi non purificati l'ha tralasciata e si è dissolta nei rispettivi mondi e quindi è davvero se stesso nella sfera del sole l'io inferiore che si è incarnato nel corpo al punto tra le sopracciglia è tornato al suo io superiore che alberga costantemente nel sole e che tutti noi abbiamo quindi quando noi rivolgiamo tre volte la domanda dobbiamo fare attenzione a questo il defunto ci comunicherà in un modo che tutte le volte noi pensiamo che sarà in un modo e sarà invece un altro alla quarto risveglio in particolare potremo per esempio questo potrebbe presentarsi con un'immagine quindi lavora sull'astrale sull'anima dell'uomo potrebbe presentarsi con per esempio delle parole un significato che noi intercettiamo magari è il nostro vicino che ci saluta e magari ci dice una cosa strana in realtà non sono le sue parole sono le parole del defunto oppure magari invece ancora facciamo un incontro particolare magari una combinazione una serie di combinazioni talmente improbabili che ci portano a vivere un evento che non avevamo mai vissuto e allora sta agendo a livello del tatto dell'incontro tra esseri umani o eventi qualsiasi cosa sarà se un'immagine una parola o un evento vi assicuro che vi stupirà e che vi darà una chiave che è molto più chiara di quello che voi potete immaginare prima di aver fatto questa esperienza il consiglio dunque è non solo magari non potete recarvi per esempio dai vostri defunti nelle magari sono anche sparsi in diversi cimiteri quindi ricordatevi anche che la tomba o l'urna ceneraria diventa alla fine un simbolo non è più quell'essere è completamente altrove è fortunatamente nel suo viaggio macrocosmico quindi non rimanete attaccati al feticcio però quel simbolo a volte può aiutare a collegarsi a staccarsi diciamo da questo in questo punto critico tra il fisico sensibile e l'astrale il consiglio dunque è quello di rivolgere un pensiero luminoso ai vostri defunti questo pensiero luminoso può essere un pensiero per come ve lo ricordate ma in una forma che è tale in cui vi ha dato qualche cosa che è rimasto con voi può essere anche una persona che vi ha fatto del male ma se questo male che vi ha fatto vi ha portato a conquistare qualche cosa di voi che viceversa vi possedeva allora potete anche ringraziarlo voi rivolgetevi anche a coloro che vi hanno fatto del male e quando riceverete la risposta essendo nella sfera solare la loro risposta sarà di una natura di polarità totalmente opposta a quello che avete sperimentato durante la vita di veglia gli antichi i romani ma anche i greci dicevano dei morti non si dice che è il bene dei morti non si dice che è il bene significa che quando arrivano nella sfera del paradiso non si dice parola che è il bene lo stato paradisiaco significa che quando i morti sono completamente purificati non possono che lavorare per l'evoluzione terrestre e quindi per gli incarnati questo quindi è un consiglio operativo per il giorno dei defunti pensate a rivolgete questo pensiero ai defunti ad un vostro caro estinto tanto più se magari vi ha fatto del male ma ovviamente avendo già metabolizzato il fatto che quel male vi ha condotto a un più grande bene quindi avete già superato il momento dualistico che esiste un bene o un male ma esiste un bene superiore che li comprende entrambi dovete aver già fatto questa operazione interiore altrimenti non avviene questo collegamento anzi rischiate di entrare di nuovo in conflitto quindi dedicatevi a oppure invece a chi vi ha lasciato un'impronta magari una madre un padre un genitore magari un fratello una sorella un amico se poi non ci sono relazioni se sono state relazioni di sangue il collegamento per la sfera solare è ancora maggiore perché la sfera solare vive al di là dei legami di sangue legami di sangue si fermano qua possono al massimo arrivare a interferire con la sfera della luna ma non di più quindi quando non ci sono legami di sangue siete certi che essendo passato un terzo della vita vi trovate qua un altro aspetto di cui un terzo della vita fino al momento in cui sono morti quindi se ha vissuto per esempio 99 anni ipotizziamo deve essere 33 anni dopo quindi dal 34esimo anno in poi perché questo gli serve per aver tralasciato tutto quello che deve lasciare nel purgatorio il kamaloka questo è chiamato purgatorio o kamaloka è entrato nella sfere animiche superiori e poi può finalmente accedere quindi immaginiamo se è 99 anni qua siamo ai 33-34 entriamo nella sfera solare diciamo più di persone anziane perché poi molti hanno verso amici o comunque parenti giovani certo e vale lo stesso è ancora più breve certo aspetta che appunto se vuole ripetelo volevano sentire dicevano chi ha perso un amico o un parente giovane chi ha perso un amico o un parente giovane c'era un po' una difficoltà forse più cioè più vicino un nonno un papà o una mamma che insomma anche si dipende però non è detto forse è più usuale però non è detto qui per esempio a Napoli lo sapete bene il culto delle capuzzelle erano sconosciuti ma come venivano riconosciuti adottandoli erano i morti durante la peste quindi siamo alla metà del 1600 questi morti di peste veniva presa questo cranio che era insieme alle tibie era di solito l'unica cosa che veniva tenuta conservata perché ovviamente erano degli ossari alla fine chiaramente se non erano delle fosse addirittura comuni il teschio veniva preso avvolto in un fazzoletto bianco e portato a casa da quel momento si cominciava a parlare con il teschio questo questo parlare con il teschio era un po' il nostro parlare alla tomba del defunto o l'urna cineraria con la difficoltà in più che l'anima del defunto era del tutto ignota quindi come si manifestava dai segni che dava durante i sogni ovviamente grande tradizione che qui entriamo nel folklore i numeri dell'otto ma perché i numeri dell'otto perché i numeri dell'otto hanno in realtà una regione archetipica hanno a che fare con quella che noi chiamiamo la cabala e non c'erano legami di sangue quindi siamo subito nella fratellanza o c'è la fratellanza dello spirito o non c'è quindi in realtà era un lavoro che la chiesa cattolica condannò a un certo punto abolì il culto delle anime del purgatorio anzi adesso dicono che il purgatorio non esiste quindi diciamo così ma appunto ne è rimasto quasi più niente è come se avessimo cancellato tutto questo siamo rimasti qui nel nostro letto ma detto questo la cosa interessante dal punto di vista di uno scienziato dello spirito un libero ricercatore è che si creavano dei rapporti con queste anime che collegate e in qualche modo anche immaginiamo sperdute desiderose di comunicare si collegavano al teschio che era stato adottato e quindi man mano che si creava questo rapporto coloro che l'avevano adottato adornavano il teschio quindi gli portavano per esempio dei doni era davvero un membro della famiglia a tal punto che a volte facevano anche dei dispetti quando avvenivano questi segni contraddittori che venivano poi interpretati come dei dispetti il teschio veniva rivolto verso il muro in castigo quindi la cosa però che diciamo il messaggio che vorrei dare è che in realtà Napoli è talmente intrisa di tradizioni spirituali antiche che se le compenetriamo con la scienza dello spirito antroposofica si apre un mondo che è questo e ne possiamo parlare all'infinito quello che è stato portato in Napoli svelata è un frammento quando siamo entrati a Cappella San Severo che ci hanno lasciato 20 minuti poi sono stati 25 alla fine abbiamo guadagnato 5 minuti io ero quasi imbarazzato cioè per riassumere la Cappella San Severo in 20 minuti è come se è quasi impossibile è impossibile in realtà è semplicemente una rappresentazione scarna diciamo così quindi questo sostrato e poi il culto qui parliamo appunto dei defunti dei sogni eventualmente anche dei numeri dell'otto se volete in questo senso ovviamente più iniziatico della cabala degli archetipi sono qualche cosa che noi possiamo indagare con la scienza dello spirito quello che noi oggi abbiamo fatto appunto le anime si diceva desiderose sono anime affamate noi oggi abbiamo una sogniamo poco perché? perché abbiamo una vita interiore scarna limitatissima siamo se non siamo qui siamo anche sotto a volte quindi quando noi ci addormentiamo dopo cioè non c'è niente questo non sognare e questo non non illuminare con l'autocoscienza di veglia la vita di sogno quindi il processo della scienza dello spirito antroposofica affama i defunti pensate per esempio a la cappella San Severo ma pensate alle chiese cristiane di che forma è l'altare che cos'è l'altare pensate all'altare di un tempio antico l'altare di un tempio antico è essenzialmente una sorta di parallelepipedo tendenzialmente quadrato con diciamo una forma che era assomiglia un po' a una colonna stilizzata troncata che forma ha invece l'altare cristiano è come se noi avessimo preso quest'altare l'avessimo rovesciato e forma un parallelepipedo disteso è il sepolcro del Cristo da cui è stato deposto ed è risorto quello che viene raccontato nella cappella San Severo se voi guardate a oriente quindi guardate all'est avete la scena della deposizione il sarcofago vuoto da cui esce uno spirito un angelo e davanti è stato posto anche se non era lì il suo posto il Cristo velato in quel momento che è potrebbe essere o è stato deposto da poco o invece si sta rialzando anzi questo era il messaggio iniziatico di conseguenza quando noi abbiamo un altare cristiano e noi stiamo per esempio viene celebrata la messa viene celebrato il mistero eucaristico l'eucaristia fin dalla prima istituzione e da quando viene portata nell'ultima cena è un pasto dei morti fate questo in memoria di me il Cristo dice che sarà un defunto un defunto del tutto particolare che porta la vita nel mondo della morte ma pur sempre un defunto quindi quando il Cristo il primo atto che fa nel momento del successivo al mistero del Golgotha al suo sperimentare la morte non è visitare i vivi è visitare i morti perché il Cristo il Cristo per la prima operazione la prima azione che fa dopo che viene deposto dalla croce viene posto nel sepolcro viaggia nel mondo dei morti e libera il mondo dei morti dal non percepirsi più nella vita dopo la morte quindi ridona la luce questa luce che è una luce calda una luce di amore la luce agli inferi e gli inferi si colmano di luce e quindi ribadisce che l'importanza in realtà è dei defunti soprattutto poi dei vivi che vivono come defunti i morti viventi diciamo così di conseguenza quando noi imbastiamo una meravigliosa un meraviglioso banchetto a base di conoscenze antroposofiche è come se noi stessimo celebrando in effetti una forma di eucarestia è un agape è un cena rituale a cui defunti che sono affamati dal nostro non sognare dal nostro non illuminare la vita di sogno con l'autocoscienza si avvicinano per sfamarsi di conseguenza quando coltiviamo la vita di sogno in questo senso anche quando noi ci sforziamo anelliamo di comprendere i nostri sogni i defunti hanno del cibo di cui sfamarsi quando studiamo quando preghiamo quando recitiamo un mantra quando meditiamo quando coltiviamo la nostra vita interiore per mezzo delle forze solari dell'autocoscienza noi celebriamo una forma di eucarestia per questo quando Antonio aveva suggerito di scrivere un piccolo manuale della meditazione io ho deciso di chiamarlo il viatico della meditazione e il viatico era sia quello che veniva dato appunto per il viaggio sulla via il cibo per coloro che erano sulla via quindi un po' come i nostri defunti erano anche i pellegrini era un viaggio da cui non si sapeva se sarebbero tornati ed è anche ovviamente un rimando al viatico santo che è appunto quello che serve per celebrare l'eucarestia di conseguenza qui arriviamo abbiamo già diciamo esplorato altri territori limitrofi da un punto di vista sovrasensibile a quello dei sogni e dell'interpretazione iniziatica dei sogni quindi la conferenza qui ha un suo dunque ma ovviamente se avete delle domande volentieri alzate la mano e ne parliamo siccome si è parlato proprio alla fine delle chiese dell'altare e quindi del mondo poi della parte diciamo più interrena è possibile che durante allora il sacerdote a un certo punto diciamo il prego a un certo punto è anche l'altare non l'altro grazie